Il beller di sera Ischia Ponte si rianima, Borgo in Festa, e questa è l'iniziativa che caratterizza la gran parte dell'estate e non solo del Borgo Antico. Ne parliamo con Lucio D'Orta, come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce per un'esigenza di far vivere il Borgo di Ischia Ponte in una tranquillità, con uno stop completo, motori, un servizio navetta che permette alle persone di parcheggiare nel parcheggio di Fondo Bosso e di arrivare con questo servizio navetta all'ingresso del Borgo di Ischia Ponte, gratuitamente pagato dai commercianti e vede complici otto postazioni musicali distribuite sul territorio con 22 artisti che si esibiranno in queste serate che andranno da adesso, venerdì 16, fino al 30 settembre. Un servizio baby parking per i bambini fatto nel piazzale delle Alghe e tanta tranquillità, senza auto, senza stress. I commercianti sono i veri protagonisti della manifestazione che esibiranno le loro qualità in queste serate. Quindi un doppio scopo praticamente, riacquistare la vivibilità ma anche far conoscere le bellezze di Ischia Ponte, perché no, anche gli esercizi commerciali. Amedeo, dici bene, i commercianti che ringrazio tutti e ringrazio l'amministrazione perché ci ha dato il patrocinio, hanno capito che è il momento di far vivere Ischia Ponte in modo differente. Noi siamo convinti e tutti i commercianti hanno partecipato, dando un contributo, voglio precisare, questa è una manifestazione pagata dai commercianti di Ischia Ponte con fondi personali, hanno capito che dobbiamo un attimino far vedere questo borgo che per noi è il borgo più bello d'Italia in modo differente e piacevole da essere visitato. Quindi è anche questo un appello non soltanto ai turisti ma anche agli ischitanti di venire a riscoprire Ischia Ponte? Questo è il nostro aspicio, noi siamo convinti che sia l'isolano sia proprio il residente di Ischia Ponte vivrà una magia completamente differente, che vedranno questo borgo in tranquillità. La nostra è principalmente, oltre a una manifestazione periodica, è una visione che noi vogliamo dare, una visione di un borgo senza auto, una visione dove si può fare una passeggiata, una visione dove c'è un po' di musica in sottofondo fatta, come ti dicevo, da 22 artisti che si esibiranno tutto lungo il corso. Noi non vogliamo creare confusione, le varie postazioni sono proprio per tenere la musica in un livello molto basso che rispetti il borgo di Ischia Ponte.